La prima scarica di bombe ha appena colpito l'abbazia di Monte Cassino, edificata da San Benedetto nel 529. Al suo interno, in questo momento, sono rifugiati migliaia di civili. Quindi, state rivivendo in diretta l'intervallo completo fra il primo e il secondo attacco. Mancano 20 secondi. La cinepresa non stacca e continua a girare. I reparti cinematografici sono stati avvisati che l'obiettivo sarà colpito con violenza inaudita e si sono mobilitati in forza. 10 secondi all'impatto. Guardate la cupola. Fra poco sarà centrata. Meno 5, 4, 3... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.